La festa dello sport tra il mancato diserbo e la scarsa pulizia. Lo scorso 30 marzo aveva inviato all'amministrazione una richiesta ben precisa per il diserbo e la cura delle nuove ole di Via Tisi e Via Pitia. Esordice così la nota del consigliere comunale Iva Scimonelli. Alla luce della festa dello sport domenica desidero esprimere la mia profonda preoccupazione per lo stato di incuria in cui versano le due vie a causa del mancato diserbo e della scarsa pulizia del verde pubblico. Mi sento in dovere di portare all'attenzione dell'amministrazione comunale l'urgenza di intervenire tempestivamente per ripristinare il decoro e la sicurezza di queste importanti arterie cittadine. La presenza di erbaci e rifiuti non solo deturpa l'aspetto del nostro quartiere ma è possibile che lo notino solo i consiglieri. Questa situazione è resa ancora più critica dal fatto che domenica prossima nelle stesse vie si terrà la festa dello sport, un evento di rilevanza nuova per la nostra comunità che attirerà numerosi partecipanti e visitatori. È inaccettabile che i cittadini e gli ospiti debbano trovarsi di fronte a uno spettacolo di incuria e degrado. Pertanto chiediamo con fermezza all'amministrazione comunale di intervenire immediatamente con le operazioni di diserbo e pulizia necessarie per garantire che via Tisia e via Pitia siano presentabili e sicure in vista della manifestazione. La cura del verde pubblico e la pulizia delle strade sono elementi fondamentali per il benessere e la qualità della vita dei cittadini e non possono essere trascurati. Confidiamo in una rapida azione da parte delle autorità competenti e rimaniamo a disposizione per qualsiasi collaborazione.